molto faticoso, Sergio Assisi è stato regista molto, ha voluto sempre stringermi a aiutare, cioè ottenere il massimo da me, però io lo sto facendo felice, credo, insomma ci sto lavorando tanto, lui è molto contento di me, del mio personaggio, del mio percorso che sto facendo ovviamente insieme a tutta la compagnia. Fabrizio! Sì Sergio dimmi. Fabrizio senti, ti ho detto una cosa, stasera sei stato sostituito, però solo stasera, non ti preoccupare, tranquillo, ti puoi rilassare, ma mi vestiti, è una cosa mia, tranquillo, vai, vai a casa, ma solo stasera? Sì sì, solo stasera, tranquillo, quindi io vado al cinema? Sì sì, vai al cinema, ciao. Vabbè, magari il percorso da domani riparte, stasera, magari vado al cinema.